E' arrivata in questi giorni a Matteo Calzà la lettera di disdetta del contratto d'affitto del rifugio Marchetti sul Monte Estivo. In questi cinque anni il gestore ha dovuto affrontare notevoli difficoltà e non intende sottostare le nuove condizioni imposte dalla SAD di Trento per il rinnovo del contratto. E' addirittura a rischio l'apertura estiva del rifugio, ma vediamo nell'intervista quali sono i problemi di gestione della struttura tanto amata dagli alpinisti dell'Alto Garda. Ci troviamo con Matteo Calzà, titolare del rifugio Marchetti sullo Stivo. Ti è arrivata la disdetta del contratto dalla SAD di Trento, fissata per fine aprile. Cosa succederà poi? Sarai ancora tu il titolare? Non sono ancora sicuro, sto aspettando che venga messa per iscritto la proposta che mi è stata fatta che riguarda l'affitto al prezzo che era in contratto l'anno scorso dove ho ricevuto una riduzione di questo affitto dovuta alla mancanza dei servizi che da contratto c'erano. Adesso la nuova proposta prevede l'affitto pieno senza la possibilità di utilizzare la teleferica, di riuscire a salire con la macchina alla teleferica senza rischiare di farsi del male o uccidersi e senza la possibilità di parcheggiare tra l'altro la macchina alla partenza della teleferica e quindi rifornire e tenere a parte il rifugio è molto impegnativo tuttora. La cosa che mi dispiace tantissimo è perché si è investito tanto, siamo cresciuti e adesso dover lasciare dispiace. e quindi sto attendendo le ultime decisioni che vengono messe per iscritto per dare conferma o meno del mio proseguimento nella gestione del rifugio dello Stivo. Da quanto tempo tu sei il gestore del rifugio? Sono cinque anni e la situazione si è aggravata nel 2012 perché appunto c'è stata una sentenza del giudice, c'è stata una causa di uso capione per le servitù di sorvolo della teleferica, del passaggio in macchina e del parcheggio e la causa ha dato la servitù della teleferica, il passaggio in macchina e però è stato negato il discorso del parcheggio. Il problema del passaggio in macchina è che sono 15 anni sostanzialmente che la strada non è manutentata e c'è dei punti che superano il 50% di pendenza, è molto pericolosa. Ci sono dei salti di più di mezzo metro e si ha spesso e volentieri la macchina su due ruote che fa bilancia con le altre due ruote che saltano. In su se si accarchi si riesce ancora ancora a salire, a scendere è veramente pericoloso e quindi in queste condizioni e col discorso della strada e col discorso che non posso parcheggiare è impensabile poter utilizzare la teleferica. Quindi la soluzione che ho è l'elicottero, dove l'elicottero il grosso costo che ha è la chiamata, che si pagano 15 minuti di chiamata più dopo i minuti effettivi di volo che deve fare. E dopo quindi tutto il fresco devo arrangiarmi in qualche maniera, quindi a piedi con gli zaini, zainettini di un discreto peso. Però si rischia di farsi male, no? Come ti è anche successo. Infatti, e dopo ho sistemato un po' il sentiero che sale da Malga Campo per riuscire ad agevolarmi un attimo e salire con la moto da trial con questi zaini da minimo 35 kg. L'anno scorso, infatti, mi è successo che mi è partita la moto, ho messo giù il piede e mi sono distrutto mezzo ginocchio. E ho cinque anni che sono su e queste problematiche in parte c'erano, in parte si sono anche aggravate. Dal 30 aprile, data in cui scade il contratto, c'è il rischio che il rifugio rimanga chiuso? Adesso come SAT devono fare un nuovo bando e non so se c'è qualcuno disposto a prendere in gestione un rifugio in queste condizioni. Grazie a tutti.